3-4 su di una linea, Playboy Diamond, Pomeriggi di Falco, Priscilla D e Polaris A.S. Insiste Priscilla D che cerca di passare su Playboy Diamond, poi c'è Polaris A.S. Subito lì, partenza ad eminto, 13 o con lo strappo, Playboy Diamond entra di precisione a Priscilla D. Polaris A.S. ripresi in mano perché vuole vedere quello che succede. Continua a insistere Priscilla D che paga 53. E continua ad attaccare Playboy Diamond. 400 in 28.4 con Priscilla che passa su Playboy, che probabilmente chiederà il cambio. Playboy Diamond torna su Priscilla D, poi Polaris A.S. Si completano 600 in 43.5, 29.6 dopo lo strappo ha dovuto spendere Playboy per questa presenza di Priscilla. Polaris a tiro rendo speso di nero, così come Power Rock e Privacy de Gloria che hanno preso la via del largo. La metà gara in 58.5, 31 questi 400 metri, Playboy in vantaggio, Polaris scoperto, Priscilla la corda. Power Rock in Parigi in anticipo su Privacy de Gloria, 6.50 al traguardo. Con Polaris A.S. che si porta con decisione su Playboy, in giro in 1.13.9, 36 dal palo metà e per posta. Polaris mette sotto pressione Playboy che ha speso un patrimonio per prendere la testa. Poi Power Rock che migliora. 4.50 al traguardo, stanco Playboy. È passato Polaris con un paletto in 14.5, 98.5 per i 1.2. Viene via anche Privacy de Gloria, Polaris A.S. in vantaggio, Power Rock che prova di seguimento. Quindi Privacy de Gloria che viene a fare l'arrivo. Peggiora di meccanica Polaris A.S. che è avvicinato da Privacy de Gloria. Polaris deve difendersi da Privacy. Privacy lo aggancia, 80 dal traguardo. Privacy de Gloria a 80 dal palo. Passa su Polaris A.S. Privacy de Gloria vince su Polaris. Al terzo Power Rock. Al quarto Tigre CR. 1.58 e mezzo totale.